I gemelli Foncley sono i proprietari di un ristorante tipico e sono grandi appassionati di calcio. Giulia la cameriera non ha mai capito nulla di calcio e continua a fare la spola fra i tavoli e la cucina, ma ad un tratto. Giulia! Oh! Sì signor Foncley! Ma quelli sono i fratelli Inzaghi con Dino Zoffo! Sì signora Foncley! E ti hanno ordinato? La spigola! No cara, non l'hanno ordinata tutti e tre! Sì, hanno chiesto la spigola, i fratelli l'hanno chiesta chiaramente! I fratelli Inzaghi hanno ordinato la spigola, ma Dino Zoffo che ha ordinato? Hanno detto, vogliamo la spigola! I fratelli cara, ma Dino Zoffo cosa ha ordinato? Hanno anche aggiunto che era un po' che non ne mangiavano! I fratelli cara, ma Zoffo! I fratelli cara ma Zoffo, nei cinema